L'anno della WTKA World Traditional Kickboxing Association comincia con un evento di successo che ha riacceso l'entusiasmo dello sport agonistico dal vivo. Il galà di kickboxing con tatto pieno ospitato all'interno del palazzetto dello sport di Norma in provincia di Latina ha richiamato la partecipazione di numerose società provenienti da tutto il centro Italia. Una competizione di altissimo livello con ben 13 incontri a Cardiopalma. L'evento è stato organizzato dalla Frasca Academy, Lamberto e Michele Frasca ed Alfio Loretico, la supervisione del direttore generale della WTKA Tommaso Dadamo, assistiti da un qualificato staff di giudici di gara. Dagli spalti il folto pubblico ha sostenuto con un tifo incessante gli atleti, seguiti sul ring dai propri allenatori e compagni di squadra. Una giornata intensa che al di là del risultato agonistico ha visto premiare tutti i partecipanti con una medaglia a ricordo di un evento che è solo il primo di una lunga serie già inserita in calendario.